Sono in crescita i casi nel Paese, sono in crescita i positivi anche in Abruzzo. Qual è la situazione se c'è da essere un po' preoccupati anche in vista dell'arrivo dell'inverno, anche delle festività natalizie? Sì, è vero, abbiamo un aumento di casi nella nostra regione, devo dire anche un aumento esponenziale, ossia ogni giorno abbiamo un numero maggiore. Questo vuol dire che bisogna riporre ancora più attenzione alle vaccinazioni. Abbiamo aperto la piattaforma per la terza dose, vedo che c'è anche una buona richiesta e quindi questo è un punto a vantaggio. Vorrei ricordare anche però che l'occupazione dei posti letti, sia di terapia che di terapia subintensiva che subintensiva, è ancora inferiore alla media nazionale perché è questo l'indicatore che poi potrebbe far cambiare la fascia. Quindi una tranquillità per evitare il cambiamento della fascia di colore della nostra regione, l'abbiamo, però un'attenzione particolare a rispettare ancora quelle norme fondamentali per la trasmissione del virus e vorrei anche dire che l'80% della popolazione ricoverata è quella che non ha fatto il vaccino. Prosegue la vaccinazione anti-covid con le terze dosi ma è iniziata anche la vaccinazione anti-influenzale? Sì, dall'11 ottobre è iniziata la vaccinazione anti-influenzale. La vaccinazione è gratis per gli over 60 e per i bambini dai 6 anni in su. Quindi è importante vaccinarsi perché già dai primi freddi abbiamo avuto anche un aumento dei casi anche di ricovero perché purtroppo l'influenza colpisce in modo particolare anche le persone con età avanzata e quindi un invito a recarsi da proprio medico di famiglia, dai centri vaccinali per poter ricevere per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. Grazie. Grazie.